Eva, ho chiuso di là. Esci dal retro quando hai finito. Qual è il tuo sogno? Vorrei essere una grande cantante. Girare il mondo, viaggiare in prima classe. Ma non succederà mai. Non a me. Com'è possibile? I sogni sono le immagini più potenti che la mente possa creare. Io ti ci porto solo dentro. Tu dovresti stare su quel palco, di là, non qui in cucina. Tu hai risvegliato un sogno che avevo sepposto. Ora con te tutto è cambiato. Esibizione meravigliosa. Sarei onorato se venissi con me a cena stasera. Sta lontana da quell'uomo. Non è uno di cui ti puoi fidare. Devo capire cosa vuole la ragazza. Cosa vuole davvero. Diventerò l'unica persona al mondo che può dargliela. Ognuno di noi ha solamente un grande sogno. Ognuno di noi ha solamente un'animità. E' la tua stessa. Non è un'animità. Grazie a tutti.